ciao a tutti amici ad anime click e benvenuti in questo nuovo video nei campfire di lucca di quest'anno potevate trovare un volume molto interessante che si chiama savage season edito da star comics l'autrice è mario kada che conosciamo per anoana mentre i disegni cena e moto che è molto brava all'interno dei campfire troverete in anteprima questo primo volume con quattro cards dove sono raffigurate le protagoniste a casa editrice mi ha dato l'opportunità di poter leggere in anteprima tramite il pdf questo primo volume ed ero combattuta da un lato pensavo fosse una commedia banale scontata come al solito dall'altro era molto incuriosita per la trama e infatti adesso vi dirò di cosa parla savage season a partecipa a un club letterario insieme ad altre quattro amiche all'interno di questo club loro si riuniscono per leggere dei capitoli di alcuni libri e per la prima volta leggono un brano un pezzo del libro dove si parla di sesso cazzo sei sempre stata incuriosita dal sesso pensa che il sesso porta a una maturazione ma ne è anche molto molto spaventata difatti si sta documentando tantissimo per capirne di più ma allo stesso tempo appunto cerca di combattere contro se stessa perché sa che la prima volta comunque non è sempre molto piacevole questo primo volume l'ho trovato davvero molto interessante perché la protagonista cerca di comprendere se stessa e difficilmente in una commedia scolastica dove ci sono degli adolescenti si porta avanti la tematica sessuale o la scoperta del sesso alcune protagoniste saranno disgustate altre ne saranno molto incuriosite non solo cazzo sa ma anche altre amiche e per questo che molto alternativa rispetto a tutto ciò che abbiamo letto finora o almeno di quello che ho letto finora che all'interno della scuola molto spesso ci sono delle ragazze che comunque parlano delle loro esperienze sessuali senza alcuna vergogna cosa che nelle commedie scolastiche appunto non succede quasi mai non mancheranno gag o situazioni imbarazzanti soprattutto tra cazzo sa e un suo amico di infanzia sono gag che comunque vengono ben amalgamati all'interno del contesto e della storia quindi non le ho trovate né banali né scontate altrettanto pesanti i disegni di nao emoto sono puliti precisi molto carini molto pocciosi ma l'ho trovati veramente delicati e adatti appunto alla storia che sta raccontando l'ho trovati veramente adorabili un volume interessante non scontato almeno il primo volume che racconta una parte di adolescenza che nelle commedie non sempre è raccontata soprattutto dal lato femminile perché molto spesso per quanto riguarda le ragazze c'è una sorta di omerta tra virgolette quindi l'ho trovato interessante ad un incipit che può svilupparsi in modo veramente innovativo lo troverete in fumetteria e online a partire dall 11 novembre al prezzo di 5 euro e 50 fatemi sapere se avete aderito al look up campfire e avete già acquistato il primo volume vi lascio comunque libertà nei commenti vi ricordo di guardare l'info box e di andare sul sito di anime click dove ci saranno tutte le informazioni che non vi ho detto qui spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao